Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Lo proviamo, proviamo l'inizio e vediamo com'è. Ha delle buone recensioni, è uscito da poco perché è uscito a ottobre quest'anno e è il classico gioco dove si andranno a risolvere enigmi e puzzle all'interno di un laboratorio. Il gioco sembrerebbe essere in italiano, sarebbe un'ottima cosa, vediamo anche il livello di traduzione, insomma ve lo faccio vedere senza spoiler eccessivi perché poi è giusto anche che ve lo giochiate e ve lo acquistate anche voi se il gioco vi piace. Siamo in un laboratorio, la fa da padrone il mistero perché siamo qui, ci sono i vari componenti, ok, graficamente sembra che mi si stia adattando ancora alla grafica, però no, dovremmo esserci, sì adesso si è un po' stabilizzato. Vediamo, qua abbiamo, è un classico di tutti gli escape room, il fatto di avere delle casse forti piuttosto che lucchetti da aprire a combinazione, qua ci sono, dicevo, vari componenti. A, beh siamo sicuramente chiusi qua dentro con la necessità di uscire con un codice e ci sono dei simboli e ci siamo svegliati diciamo in questo ufficio cercando di capire qualcosa. C'è una traccia di sangue che possiamo andare a esaminare e c'è qualcosa qui, ma che cos'è? C'è un chip, ma non riesco a capire quanti pallini, uno, due, tre, quattro, sette, non si capisce, è sempre un circuito. Vediamo se c'è dell'altro che possiamo andare a vedere, c'è un computer, aggiungi tre molecole. Simulatore di molecole a specchio, quindi dobbiamo aggiungerne tre e io onestamente non saprei quali aggiungere. Ce ne sono diverse. E qui c'è un altro pannello che però fortunatamente, vista anche la sua complessità, non è non è cliccabile. Noi forse siamo usciti da qui o qualcosa è scappato da qui o siamo noi che siamo scappati. Insomma, il laboratorio nasconde certamente un mistero. Dobbiamo tre a specchio, diceva. Non lo so perché, vediamo, c'è anche una lettera, c'è, ok, qui c'è, sembra che manchi qualcosa, infatti c'è un lettore di tessere. Vediamo la carta L, soggetto L, questo si sta agitando, speriamo non esca, L-O-S-I. L-O-S-I, vediamo se è giusto. Allora, ho sbagliato, volevo tornare indietro ma non si può. Vediamo. L-O-S-I. Non l'ho giocato prima d'ora, quindi non... No, è giusto, perfetto, e dentro troviamo la tessera. Perfetto, tessera di accesso, livello A. Quindi, quindi possiamo andare qui. Credo dovrebbe attivarmelo in automatico. Perfetto. Ah, non ci apre la porta. 2, 5, 4. Oh, oh. Abbiamo premuto un pulsante. Ma che cosa fa sto pulsante? Ha acceso le luci. Quindi probabilmente magari ci farà vedere qualcosa che prima ci era nascosto. 1, 1, 1, 1. No, che è, cioè... Abbiamo disattivato forse l'allarme. Però qua serve un codice per uscire. Il codice per uscire, purtroppo... Allora, qua ci sono. Aggiunge tre molecole. Voglio fare la prova. Mettiamo questa, questa e questa. Ho sbagliato. Allora, tre molecole. Vedete che ci sono anche dei simboli. Super. A specchio. Questa. Ah, sì. Ok. Che sembrano specchiate, quindi. Simulatore di molecole a specchio. Eh, onestamente non lo so. Perché a specchio potrebbero essere questa. No. No. No, non... Questo purtroppo non riesco a capirlo. Vediamo però se c'è dell'altro. In genere questi sono giochi che nascondono sempre un sacco di... E questa vedete che è caduta? Cioè, devo metterne tre. E devo capire. Dice una telecamera. Ma non c'è altro di cliccabile, credo. Allora. Cercherò di muovermi anche piano. Perché so di darvi il mal di mare tante volte. Però attenzione. Abbiamo, forse... Adesso con la luce accesa. Possiamo dare un'occhiata a questo? No. Assolutamente no. Belli gli effetti di... Di riflesso lì. Eh, non lo so. Non ne ho proprio idea. Dobbiamo vedere... Vedete che ci sono queste lettere? Che... Devo... Devo andare a capire. Devo andare a capire. Due, cinque, quattro. Eh, due, cinque, quattro. Che cacchio vuol dire? A. A specchio questa. Due. A sei, sei. Aha. Eh, sono tutte a specchio. Due, cinque, quattro. Ok, forse, forse, forse... Forse, forse... Questi sono due. Quindi... Due. Il quattro però non c'è. Due, cinque. Il quattro lì. Ok, ok. Forse, forse ci siamo. Voglio capire se... Eh, una è questa. Che è la due. Ok, la due è questa. Sì. Perfetto. Vediamo. Cinque. E quella lì incrociata, incrociata a destra. Quindi questa. Due, cinque. E il quattro, che è questa qualche volta, con il giro di là. Che è questa. Perfetto. Abbiamo risolto anche l'enigma. Pensando poco... Ma non si apre la porta. Dobbiamo ancora andare. Losey subject. Cartella degli esperimenti. E quindi? Ma, fatemi capire. Con la I si apre l'inventario. Ok. Sconosciuto. Va bene. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok. Codice. Soggetto 0, che è quello grosso che abbiamo lì. Alto 2, peso 142. E ci sono delle lettere mancanti, o dei numeri. Soggetto S. Soggetto I, che è l'omino di cartone. Ok, no, però... Non è vero, perché... Questo è della scheda precedente. Eh, però... Devo capire. Perché sono quattro numeri. Che mi servono. E non ho proprio idea di che cosa possa fare io qua. Perché abbiamo... Ok. Sbloccato questo cassetto. Ma non c'è altro. Non c'è altro cliccabile. C'è solo questo. No. Soggetto 0. 0, S, U. 0, S, I. Ok. Andiamo a rivedere. 0, 7, I. Allora. Soggetto L. Che sono io. E sono sconosciuto. Assolutamente sconosciuto. 1, 75. 0. S e I. Bisognerebbe capire... Dato che sono quattro, sono quattro in realtà, è probabile che magari ci sia un numero. No. Questo qui non so che cosa voglia dire. perché c'è il numero del soggetto, il nome, la data di nascita, però non riesco a capire. Onestamente c'è un codice 142. Dovremmo avere un numero per ogni soggetto. Proviamo a chiedere aiuto. Sì, sì, sì. Dammi un indizio. Che cacchio vuol dire? Ok. Subito sotto la faccia. Ok. Questo sarà l'unico aiuto che userò, forse. Ma... Ah, ok. Ho capito. Ho avuto l'intuizione. Praticamente dice che deve essere 1, 2, 3, 4, 5. 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9, 5. 9, 5. 9, 5. 9, 5, 4. 9, 5, 4. 7. Vediamo. 9, 5, 4, 7. Perfetto! E apriamo. E qua si apre un'altra stanza dove andremo avanti cercando di capire come andare avanti. Questo gioco non è multiplayer. Ce ne sono tanti anche multiplayer in co-op che ho giocato e ho finito. Giochi che ho finito più spesso. Ne abbiamo visti diversi nel corso dell'anno. questo non aggiunge assolutamente niente ma se siete amanti di escape room di questo tipo ne stanno uscendo sempre di più e questo è uno di quelli. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate in questo video rapidissimo e alla prossima. E ciao ciao!